Ciao a tutti, sono Piercarlo e ci troviamo alla concessionaria GTMoto, concessionaria ufficiale Yamaha per Salerno e provincia. Siamo qui in occasione dell'open day che si terrà questo weekend 23-24 marzo, dove i nostri clienti potranno provare i nostri veicoli. Sono vicino all'X-Center, Yamaha X-Center 125 e 150, in quanto volevo dare alcune specifiche tecniche e anche riguardo alla vantagesissima promozione. Il motore ha delle velocità da record, lo scooter infatti ha un motore da 11,6 kW per quanto riguarda il 150, 9,2 kW per il 125. È dotato di una pedana piatta e la più grande di tutta la categoria, tanto è vero che noi lo presentiamo con una balla d'acqua in verticale. Lo scooter è dotato di monoammortizzatore, il che permette di avere una maggiore padronanza, maneggevolezza e rende lo scooter molto più agile rispetto agli altri. Lo scooter è in promozione, abbiamo quindi una promozione di 2.190 più spese di matricolazione per il 150, 2.490 più spese di matricolazione per il 125. All'interno del prezzo saranno omaggiati anche il parabrezza alto e il bauletto, all'interno del quale entrano due caschi jet. È possibile inoltre effettuare un finanziamento tasso zero, all'interno del quale sarà possibile anche includere la polizza furto e incendio. Ti aspettiamo per un test ride qui alla GT Moto in via Mattia Farina 125, uscita tangenziale Sala Bagnano, per provare l'X-Center. Inoltre, qualora la prova verrà effettuata da oggi fino alla fine della settimana prossima, sarà possibile partecipare al concorso che permetterà appunto di vincere un Yamaha X-Center. La prova inoltre sarà possibile effettuarla senza però la partecipazione al concorso a tempo indeterminato.